Sitin questa mattina davanti alla sede dell'ATS in piazza Fiume dei dipendenti Secora. Il servizio di guardia Nia è portierato dell'ATS e AOU che da due mesi non percepisce lo stipendio. Ma ciò che maggiormente è stato contestato è la mancanza di comunicazione da parte dell'azienda che ha preso in appalto la sicurezza dell'azienda ospedaliera nei confronti dei propri dipendenti. Sono oltre 200 le persone impiegate in questo settore, ma alla protesta hanno partecipato solo qualche decina in rappresentanza di tutti i lavoratori che hanno comunque garantito il servizio. Siamo in agitazione e non in sciopero, ha tenuto a precisare Maria Teresa Sasso della Filcamps CGL anche perché dobbiamo garantire il servizio di sicurezza. Restiamo in attesa di comunicazioni da parte della Secur, ha ribadito Maria Giovanna Mella della Fisa Scat CISL. Sappiamo che gli stipendi non sono stati pagati dall'azienda ospedaliera perché la Secur non era in regola con i documenti sulla regolarità contributiva. Non solo, ha aggiunto Giampiero Manai della Will Tux, ma con ultima delibera della TS molti di noi che svolgono il lavoro di portierato potrebbero essere mandati a casa perché si richiedono solo guardie armate e per ottenere i patentini occorrerebbero almeno tre mesi. Queste dunque le richieste dei dipendenti Secur che attendono risposte dalla TS. Dalla Secur è un incontro con il prefetto.